Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buonasera. Due domande. Allora, la prima, perché Bari non si dota, ad esempio, come Trigiano, cioè giusto per citarne uno di contenitori per l'olio esausto? Non mi risponda che per questione di sicurezza, per pericoli di incendio, perché alla fine se ci sono lì vuol dire che si può fare come cosa. Poi, seconda domanda, sicuramente li sapranno che molti bar, pizzerie, eccetera, non fanno la raccolta differenziata. So che state facendo vari verbali sul conferimento sbagliato dell'immondizia. Però un sistema del genere, c'è un verbale così ogni tanto, non mi sembra che risolva il problema. Secondo me o si dovrebbe prevedere un sistema che o ogni tot verbali è prevista che sono a chiusura, ad esempio, oppure fornire bidoni per la raccolta differenziata ai locali gratuitamente e quindi contemporaneamente inasprire le multe per il conferimento sbagliato. Perfetto. Grazie mille, è stato chiarissimo. Dunque, la prima, partiamo dall'olio esausto. Allora, l'olio esausto. Noi abbiamo valutato l'opportunità di fare una raccolta domiciliare per gli oli esausti, però il costo che ci veniva rappresentato è un costo rilevantissimo per l'intera città. Gli oli esausti vanno raccolti, noi li raccogliamo per questi nostri centri di raccolta, quindi molti cittadini si recano. Stiamo studiando, proprio l'altro giorno ho avuto un incontro con un gruppo di Bologna, che ora ha già fatto un esperimento di questo genere con Iria, di mettere dei raccoglitori di olio esausto, diciamo di prossimità per grossi condomini, dove con rilascio di punti premio su per giù come funziona per i nostri centri di raccolta, con rilascio di buone spesa e quant'altro, ogni conferimento di olio esausto. Lo fa anche per la plastica, quindi stiamo cercando di trovare anche questo tipo di soluzione. A giorni mi arriveranno i modelli di questi contenitori, è ovvio che devo non condividere le perplessità del telespettatore per quanto riguarda il problema di lasciare questi contenitori sul suolo pubblico di olio esausto, perché se riescono a bruciare i cassonetti ordinarie, mi sa un altro l'ho visto in via Carcui che ce l'hanno bruciato dalla carta, immaginassi se lasciamo gli olio esausti il pericolo che potremmo creare, pur se ipotetico, purtroppo non dobbiamo escludere che ci sono sempre dei vandoli in giro e che comunque si divertono a fare questi atti che non hanno alcun senso. Presidente, prima di rispondere alla seconda domanda, la metto in stand by perché abbiamo un altro telespettatore in linea, ma assicuro chi ci ha chiamato prima che faremo rispondere il Presidente anche sulla questione degli esercizi commerciali. Intanto però prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, saluto il Presidente dell'AMNU. Sì, buonasera. Volevo dire al Presidente, lei ha mai passeggiato all'inizio a Piazza Moro, il primo isolato di via Sparano, c'è un noto fast food, di cui non faccio nome, che usa le fioriere come patumiera, ma perché non si fanno dei verbali? Anche l'AMNU, prima ricordo che c'era un addetto del negozio che usciva con la scopa e puliva. Non si può usare la città per vendere, ridurle come una patumiera. O mettono cestini, perché è un cestino per un amore di gente che frequenta quel fast food, mi sembra irrisorio. oppure intervenite voi o i vigili, io lo dissi già in trasmissione, ma non è cambiato nulla. Grazie mille, grazie. Allora, in qualche modo si ricollega la telefonata precedente. Sì, sull'ultimo esercizio commerciale è quello che sta all'angolo, di solito. Siamo già intervenuti e abbiamo già sensibilizzato e abbiamo già minacciato, sia anche quando stavano i vigili, le sanzioni. Adesso torneremo, perché il problema è che gli abbiamo già contestato che sono insufficienti i bidoni, i cassoni, diciamo, i bidoni che lui mette per la raccolta del rifiuto prodotto dalla sua attività commerciale, così come anche gli abbiamo rappresentato che c'è l'obbligo da regolamento cittadino di igiene urbana di tenere pulito lo spazio antistante dell'esercizio commerciale. È ovvio che la nostra attività è continua, anche per rispondere all'altro telespettatore. I nostri ispettori continuativamente segnalano questi episodi, prima sensibilizzano, danno un avvertimento, la volta dopo sanzionano. Non è che una volta fatta la sanzione non tornano più, ritornano, ritornano più volte. Tant'è che oggi abbiamo fatto pure la multa all'università, detto onestamente. Quindi non ci facciamo scrupoli di nessun tipo. Su questo punto facciamo la multa a tutti, perché devono comprendere tutti i cittadini, in particolar modo i tesorari di utenze commerciali, che devono rispettare queste semplici regole. Perché è ovvio che noi sappiamo benissimo che l'esercizio commerciale utilizza molte volte le ferie come cassonetto, gliel'abbiamo invitato a non farlo. E ovvio che adesso torneremo, sicuramente secondo me saranno anche andati i miei ispettori, ma comunque gli dirò di tornare e di sanzionarli in modo esemplare. E torneremo continuativamente, non vi preoccupate. Questo per tornare alla domanda dell'altro telespettatore. Quello che chiedeva, insomma, sono sufficienti le sanzioni? Oppure si può potenziare in qualche modo il servizio? È ovvio che sono sufficienti, il Comune di Lecce le ha rilevate, però riteniamo che le sanzioni sono sufficienti. Non possiamo procedere alla chiusura dell'esercizio commerciale, perché questo non ce lo consente da leggere a luce della natura delle sanzioni, però è ovvio che possiamo continuare, perché i nostri girano ogni giorno, a continuare a elevare le sanzioni. È ovvio che noi ci siamo messi anche a disposizione di tutti i titolari di esercizi commerciali, sia dando bidoni a titolo gratuito, incomodato gratuito, quindi non chiedendo alcuna somma corrispettiva per l'utilizzo del bidone, e abbiamo anche dato disponibilità a dargli delle buste. Eventualmente a Barri Vecchia stiamo anche studiando quello di dare delle buste con diverse colorazioni, per consentire la raccolta differenziale da tutte le utenze non commerciali. È ovvio che vediamo che in alcune zone della città, alcuni esercizi commerciali che sono resti ad adeguarsi a queste regole, ma è ovvio che con la politica repressiva che abbiamo avviato, io spero che si adeguino, però spero per le loro tasche, perché noi non ci stancheremo a fare le multe. Ecco, questo è un peccato il fatto che si debba ricorrere alle multe, però mi sembra l'estrema razza. Invece visto che adesso ci ha fatto venire la curiosità, avete sanzionato anche l'università, ma forse non è la prima volta, se non ricordo male. Sì, questa volta abbiamo sanzionato l'università per le isole ecologiche che stavano all'interno del Politecnico, parte di proprietà di università. Abbiamo trovato una situazione abbastanza grave, per dati conferimenti mancato rispetto alla differenziata, rifiuti abbandonati sul suolo. Quindi abbiamo le fotografie, non le ho portate oggi perché me le hanno date tanti. Però abbiamo le fotografie. Allora, dunque adesso cambiamo argomento, visto che credo abbiamo esaurito le risposte. Vi ricordo intanto che per intervenire basta chiamare lo 080 501 9998. Dunque, a proposito di Piazza Umberto, un altro problema che ci segnalano spesso è il degrado in Piazza Cesare Battisti. Prego la regia di mandare in onda delle immagini proprio su una pulizia straordinaria che avete fatto in Piazza Cesare Battisti, che purtroppo è sempre più frequentata da gente che non fa attenzione hanno a lasciare tracce di sé. Che tipo di intervento avete fatto? Sì, questo è un intervento straordinario con l'utilizzo oltre del lavaggio, ma anche della lavante e anche della spazzatrice che è riuscita a sedire sulla piazza. E ovvio questo è un intervento che non possiamo fare quotidianamente, ma lo faremo con frequenza almeno settimanale. Così come stiamo facendo la notte dopo Bari Pulito, alcune squadre vanno su Piazza Umberto perché la situazione in alcune nottate, mi sa il giovedì notte, la situazione è abbastanza critica perché stazionano regolarmente un gruppo di persone extracomunitari che lasciano di tutto di più. Quindi questi interventi li facciamo in modo straordinario. È ovvio che potrebbero essere evitati se i cittadini avesse un po' più di rispetto delle varie piazze perché questo non è previsto neanche nel contratto di servizio, dico sinceramente. Noi lo facciamo, questo è l'angolo che diceva il signore del Fortino, che noi interveniamo quotidianamente, vediamo che quel tipo di rifiuti sono tutti rifiuti derivanti da attività commerciale, perché bisogna spiegare ai telespettatori perché quelli sono ritiri che non sono stati effettuati dal nostro servizio che passa là intorno a mezzanotte e quindi siccome conferiscono dopo le due, le tre, lo troviamo la mattina e siamo costretti a tornare una seconda volta. Stavo dicendo che questi lavaggi straordinari ci impegniamo a farli è ovvio che vogliamo una collaborazione per tutti i cittadini, per maggior rispetto, comprendiamo perché anche col comitato di Piazza Umberto ci siamo sentiti, credo col presidente del comitato di Piazza Umberto ci siamo sentiti, è ovvio che là è una politica integrata, non dipende solo dall'AMIU, diciamo, dalla risoluzione delle problematiche di Piazza Umberto, però quello che possiamo fare e stiamo facendo anche al di là di quello che è previsto dal contratto di servizio, è ovvio che noi, quello che vogliamo far capire ai cittadini, tutto quello che noi facciamo in più ha un costo, è ovvio che questo costo grava sulle collettività, quindi se tutti avessero dei comportamenti corretti si potrebbe avere un risparmio anche sotto il profilo economico. Dunque prendiamo un'altra telefonata, forse l'ultima credo di questo spazio, perché ci avviciniamo alla chiusura. Pronto? Pronto? Senza, buonasera. Sì, buonasera. Io sono quello che ha chiamato prima. Sì, brevemente perché siamo in chiusura, ci becca sempre a fine spazio. Un'altra domanda, un'altra domanda. Sì. Allora, Senza, Presidente, quando vi siete insediati che il sindaco di Bari consegnò ai cittadini Vidoni, Vidoni, avemmo delle buste, solo una volta abbiamo usato le buste, adesso con l'aumento della Tarsul, io penso che si dovrebbe consegnare le buste, perché oggigiorno andare a spendere le buste dai supermercati e più con l'aumento che ci sono, poi i cittadini ogni giorno fanno... Grazie mille. E sicuramente vorrei una risposta. Grazie. Sì, grazie per il suo intervento. Brevemente, Presidente, perché siamo in chiusura. Adesso non so a che zona si riferisce, Iapigia, credo. Però è ovvio che adesso stiamo valutando, anche per Iapigia, se loro si attengono in modo regolare alla raccolta della frazione organica, stiamo valutando l'opportunità di distribuire i sacchetti biodegradabili, perché cosa sarebbe da fare sull'ulteriore. Però è ovvio che quei sacchetti devono essere usati correttamente. Valuteremo anche la domanda, la richiesta delle telespettature del cittadino proprio per accontentarlo sotto questo perfilio. Benissimo. Con questo auspicio, con l'appello che prima faceva il Presidente, la collaborazione di tutti, che è sempre l'appello con il quale cerchiamo di chiudere la trasmissione, concludiamo anche quest'altra puntata dell'SOS Telebari. Grazie Presidente per essere stato con noi, intanto si goda la festa la prossima settimana, anche se ci sarà per voi, immagino, molto da lavorare. Grazie, grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie a voi per averci seguito, restate con noi su Telebari, l'SOS Telebari torna il prossimo martedì, sempre alle 15.30, sempre su Telebari. Buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.